salve a tutti miei cari zecchini e ben ritrovati in questo ultimo episodio della scopini challenger perché mancano solo 15 ore come potete vedere a questo tempo rimasto e potrò fare solo un video forse due ma la vedo la vedo molto dura a scopini siamo a 3000 bassi dovevamo arrivare a dieci volte tanto però vabbè vi ricordo ragazzi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi le nostre live il lunedì sera siamo in live con marvel snap il martedì sera costambo il guys per giocare tutti insieme il mercoledì sera con la nostra sharecraft e la nostra vanilla di minecraft quindi non vi resta altro che iscrivervi e attivare la campanellina intanto iniziamo con la sfida alla fine di questo video ragazzi toccherà anche vedere a quanto siamo arrivati di scopini e shoppare perché non penso che riusciremo a farne un altro di video oddio l'ho preso mio 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 ma dove sono tutti sono da sola giocare io me li piglio tutti oddio sta fa lo scemo io voglio prendere i scopini perché tanto mi sa che qua li prendo tutti io e prendo anche questo anche questo è così è semplice dai che ci sono è mio e non t'azzardare a vincere a posto mio vinto io no vabbè ragazzi non potete capire quanto ho dovuto aspettare prima che arrivassero tutti cioè sono tutti i bot questi non posso perdere questa partita cioè se perdo contro tutti i bot guardate nessuno che si è venuto a prendere gli scopini solo io roba che se perdo davvero questa mappa se non vinco la corona qui io impazzisco nessuno sta prendendo gli scopini guardate guardate ora io muoio per prenderli invece però non sta morendo nessuno il che un po mi disturba ecco adesso tre sono morti no più che altro mi disturba ecco per questo perché quando arriveranno questi oddio che liscio a me può prendere questi ultimi scopini no non ho fatto a tempo vabbè cavolo la valente però ma dato la valente non riesco io a vincerla vabbè questi sono tutti i bot non possono neanche perdere però dai devo devo concentrarmi ho paura ho paura di perdere ma non posso perdere cioè questa non è gente vera e morite di sotto ora fare lo stupido no io lo so oddio non è ancora morto nessuno però se l'hanno botto ma camminano come razzi e va non va di sotto nessuno io lo so che prima poi oddio ero riuscito a salire qua sopra bravo stai lì stai lì che muoiono da soli loro devo andare qua oddio oh mio dio ho troppa paura ne sono morti solo tre no non c'è muoio io muoio io muoio io nasci qualcosa no no ma come cazzo mi l'ho fatto a morire dai ho fatto tanti uno scopini no devo fare cinquanta in più vabbè alla prossima cavolo quella ragghiotta cioè era vinta quella come ho fatto a morire come ho fatto non lo so sì lo so sono sono uno scarso ecco come ho fatto è mio questo ma guarda questo qua come se sei azzardato a prendermi il mio oh questi non sono bot questi non sono bot questi danno il pugno dai 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 devono morire su oh via via sta banana qui oddio meno male ma dai due volte la solita mappa no però comunque lava land non potevo vincerla non sono non sono buono lava land a block dash sono mappe che io non posso fare è mio questo però che da due volte la solita mappa no guarda 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 quel coniglio l'avete visto ha saltato e dato il pugno quindi quel coniglio la bisogna stargli lontano mamma mia che scarso ragazzi non avete idea di quante partite ho dovuto tagliare perché va che nervoso che nervoso guarda allora una sono uscito subito rientro rigioco schiaccio sbagliato schiaccio gioca invece di giocare istorini oh non è vero non è vero non è vero mi tocca tagliare anche questa oddio sono passato pensavo di doverla tagliare che poi ragazzi non sembra ma giocare parlare insieme non è facile non è per niente facile è mio questo è mio ha detto che mio elevatevi metto qua tranquillo tranquillo aspetto che si ammazzino tutti qua ci vorrebbe il cazzotto ma io non ce l'ho il cazzotto e non si sta ammazzando nessuno ma perché solo due dai su 5 6 meno male dai 7 8 non mi fare andar di là 7 8 meno male mamma mia laser dash non lo posso vincere laser dash a meno che non inizio guarda c'è la regina degli sturini guarda la linea qui ti da subito una scivolata in un orecchio vieni vieni e non c'è neanche uno sturino qua ah non c'è le banane eh mamma mia cosa mi ha fatto vabbè cioè mi ha dato un colpo di sturino nella testa mamma mia ma si può dire che c'è anche quella roba di guarda quanti ce n'è qui quando non ne mettono quando ne mettono trappi la gente che si lancia per prendere i sturini e muore cioè ma boh vabbè io faccio la già presa spero che adesso muoiano tutti no dove guardo oddio mia dai su dai dai basta fine ecco la regina degli sturini l'ho presa stavolta c mamma mia che casino no no dove l'altra regina degli sturini vieni qui vieni qui sto avendo paura ma non è vero e niente ragazzi continua a disconnettersi quindi basta nulla basta fine 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 della challenge basta mi sono stufato ma ha detto a me quando faccio queste challenge non le faccio più non le faccio più no 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 nulla nulla non le faccio più basta risquato questi 240 quanto siamo compriamo quello che ce la prendere 3500 e 22 3500 e 22 dove è la roba 3500 e 22 potrei prendere questo questi due eh sì no prendo questo ecco prego ok no cosa equipaggio quanti mi sono rimasti 722 non posso prendere niente un 722 giusto è giusto no a mille voi dite ti manca poco fallo ma assolutamente non ci penso nemmeno io sto con qui il video ragazzi perché mi ha fatto innervosire troppissimo troppissimo non vi chiedo neanche like non vi chiedo niente se lo volete lasciare lasciate se no no basta basta stambulgarse mi ha stancato lo spacco iscrivetevi al canale si quello di Lady Bea che apparirà giù in fondo iscrivetevi anche a questo canale attivate la campanellina noi ci vediamo nel prossimo video ragazzi che spero che non sia di Istanbul Guys ciao Zechini